ciao da luci oggi insieme realizzeremo la maglia macchie oggi le macchie dipende io lo lascerò a gile un gile piuttosto ampio quindi che si può usare con una maglia aderente sotto dolce vita lupetto argentina quel che si voglia ma anche semplicemente con una camicia quindi la lascio questo gile leggermente ampio proprio per poterlo indossare sopra a qualsivoglia capo per ovvie ragioni non ho potuto registrare sul progetto originale come vedete il filato è molto bello veramente molto bello guardate che macchie di colore crea questo filato ma è anche molto molto scuro quindi alcune parti quindi le parti che riguardano la costruzione ve le farò vedere su campione con un filato notevolmente più chiaro mentre alcune parti quindi cuciture rifiniture ve le faccio vedere sul progetto originale perché sono abbastanza semplici da comprendere e di conseguenza anche se il filato è scuro non darà nessunissimo problema passo farvi vedere il filato e la costruzione del nostro gile o maglia lo vediamo subito insieme il filato che andiamo ad utilizzare è questo bellissimo filato come avete visto crea delle stupende macchie di colore allora questo filato attualmente credo non sia più disponibile do le caratteristiche perché in effetti qualche gomitolo ancora potrebbe esserci quindi potreste trovare ancora qualche che x e vi do le caratteristiche però in descrizione io vi metterò anche il filato alternativo quindi un filato sempre lana gatto con stessa composizione e spessore cambierà solamente il tipo di sfumatura quindi vi lascerò comunque in descrizione tutti i dati per poter sostituire questo filato quantità peso metratura e anche i filati sostitutivi nel mio caso io ho utilizzato di della linea fashion di lana gatto il filato ambra questo filato ogni per ogni che x sono che è da 150 grammi sono 480 metri l'uncinetto da me utilizzato è il numero 4 che è anche quello consigliato dalla casa e la sua composizione 56 per cento lana merino e 44 44 per cento acrilico quindi comunque vi suggerirò un filato che si avvicini molto a queste caratteristiche se non per composizione quanto meno per peso metratura e spessore quindi potrete utilizzarlo con lo stesso uncinetto ottenendo le misure il più possibile vicino alle mie teniamo conto che per questo progetto non ci saranno multipli se non qualche piccolo accorgimento per avere la parte centrale simmetrica ma non ci saranno assolutamente molti più da rispettare di conseguenza potrete variare tranquillamente il numero di catenelle iniziali a seconda del filato che andrete ad utilizzare oltre a seconda del filato anche a seconda delle volte della vostra mano passiamo a vedere il il progetto con tutte le misure e le specifiche io ho realizzato due pannelli allora il pannello dietro un semplicissimo pannello senza nessuna lavorazione particolare tra le altre cose il pannello dietro potrà essere effettuato senza i piccoli forellini che troviamo nella parte anteriore quindi un semplicissimo pannello a maglia alta io ho fatto il primo giro di maglia bassa quindi tutti e due i pannelli dovranno essere iniziati allo stesso modo ma se partite direttamente dalla maglia alta potrete tranquillamente fare come preferite e questo pannello misura nel mio caso 55 per 55 taglia m morbida quindi una taglia m comoda 55 cm per 55 cm per un totale di 86 catenelle quindi una cosa dovete adattare comunque alle vostre forme quindi se lo volete più stretto e più lungo non avrete più un quadrato ma avrete un rettangolo non cambierà nulla per quanto riguarda la costruzione perché è a vostro a vostra discrezione ovviamente questo pannello queste misure non hanno ancora le rifiniture poi i vari bordi potrete decidere di farli alti quanto desiderate di conseguenza io ho messo solamente le misure dei pannelli mentre il pannello davanti partirà con le stesse maglie quindi sempre 86 catenelle l'emma verrà diviso in tre sezioni quindi le due parti laterali e la parte centrale che è quella dove avremo questi forellini quindi avrà un calcolo il calcolo è veramente rapido sono 40 catenelle da un lato 40 catenelle dall'altro e le sei catenelle centrali le marcheremo per poi iniziare la lavorazione forata ci alzeremo per 28 giri nel mio caso ovviamente i giri variano a seconda della taglia se siete più alte di me potrebbe essere necessario per avere una v non troppo scollata non troppo pronunciata salire di qualche altro giro ad esempio oppure se volete già partire con una maglia più lunga i giri cambieranno io vi sto elencando i miei giri quindi io ho fatto 28 giri dopodiché ho diviso il lavoro a metà e vi farò vedere come fare la v la mia via avrà una diagonale di 19 centimetri e una spallina di 18 centimetri quindi no scusate di 7 centimetri perché 18 centimetri sarà dall'inizio della v fino alla chiusura del lavoro sulle spalline quindi in realtà la spallina la parte dritta della spallina sarà di 7 centimetri ripeto queste misure sono indicative perché si riferiscono alla mia taglia quindi a dove ho voluto iniziare la v dello scollo e di conseguenza a seconda della mia altezza la v potrebbe iniziare più alta o più bassa se avete un busto più lungo del mio potreste anche iniziare la v prima o dopo come preferite io vi faccio vedere la lavorazione e poi vi consiglio per le misure di provare ad appoggiarvi addosso il pannello per vedere quando ritenete sia giunto il momento di iniziare la vostra v e anche per la larghezza quindi la diagonale se la maglia è più stretta sicuramente la vostra diagonale sarà più corta quindi provatela vi consiglio sempre di provare addosso sulle vostre misure i pannelli partiamo con la lavorazione allora essendo questo un campioncino ho fatto veramente una strisciolina corta perché vi devo fare vedere soltanto come si fanno le diminuzioni e come si dividono i forellini centrali della lavorazione quindi non richiede una spiegazione approfondita di conseguenza posso partire veramente con un campioncino piccolissimo allora montate le vostre 86 catenelle nel mio caso ripeto nel vostro caso potrebbero volercene di più o di meno a seconda della vostra taglia vado a montare una catenella in più per girare e inizio a fare un giro di maglia bassa in questo giro di maglia bassa andremo a posizionarci due marker che delimiteranno quella che è la lavorazione centrale quindi inizio a fare le mie maglie basse fino ad arrivare nel mio caso a 40 maglie basse fatte le mie 40 maglie basse cosa faccio? faccio la prima delle sei centrali la segno con un marker e ovviamente vado a fare le altre cinque una due chiudete il marker altrimenti lo perdete tre quattro e cinque fatta la quinta segniamo anch'essa con un marker così sarà tutto più semplice chiudiamo anche questo marker e concludiamo col fare le 40 maglie basse che restano sulle 40 catenelle finito il giro mi alzo con due catenelle inizieremo sempre il giro in questo modo volto il lavoro carico il filo e nella stessa maglia quindi alla base delle due catenelle vado a fare la mia prima maglia alta come vedete inizieremo sempre con due catenelle e la maglia alta nella stessa maglia per evitare i bruttissimi antistetici buchini iniziali vado a lavorare tutto un giro di maglie alte anche dove ho i marker quindi per questo giro ignoreremo i marker ci serviranno poi per il giro successivo come vedete se vogliamo possiamo spostare il marker io lavoro sulla maglia dove c'è il marker ma lo lascio tanto mi serve solo per delimitare queste sei maglie non importa se è nel giro sopra o nel giro sotto se invece vi trovate più comodi potrete tranquillamente spostare il marker da qui sotto a sopra la maglia alta arrivati al termine del giro farò la stessa cosa quindi due catenelle volto il mio lavoro e nella stessa maglia vado a fare la prima maglia alta di questo giro ed ora vado a fare tutte maglie alte fino ad arrivare al marca punti arrivati al marca punti che delimita la parte centrale lavoriamo in questo modo quindi lavoriamo fino alla quarantesima maglia faremo due catenelle carichiamo il filo sull'uncinetto saltiamo la maglia dove c'è il marker e la maglia dopo il marker con queste due catenelle filo sull'uncinetto quindi ne salto due sulla terza faccio una maglia alta su quella a fianco farò una maglia alta due catenelle di separazione salto la catenella seguente la maglia seguente e la maglia dove ho il marker vado a lavorare nella successiva in questo modo abbiamo impostato la parte centrale della nostra lavorazione ora concludiamo il giro tutto a maglia alta adesso possiamo anche togliere i marker perché non ci serviranno più abbiamo delineato la parte centrale ora sarà sempre la stessa lavorazione quindi dovremo sempre lavorare su quelle sei maglie e la parte centrale di conseguenza saranno già delineate dai fori che abbiamo creato in questo giro quindi potremo tranquillamente togliere i nostri marker sono nel frattempo arrivata alla penultima maglia se ricordate abbiamo fatto a inizio giro sottostante due catenelle e la maglia alta le due catenelle non verranno mai contate come maglia quindi l'ultima maglia sarà sulla catenella della maglia alta fatta insieme alle due catenelle vedete che rimane il lavoro molto più rifinito in questo modo non abbiamo i buchini che si creano ai lati del lavoro trovo molto bello questo metodo per iniziare e chiudere il giro proprio per non avere veramente quelle maglie che rimangono separate dal resto della lavorazione era inizio e fine giro il giro seguente sarà tutto un giro di maglia alta nel quale noi andremo a ricostruire anche le maglie sulle catenelle quindi andiamo a fare due catenelle per alzarci voltiamo il nostro lavoro nella stessa maglia andiamo a fare una maglia alta ed andiamo a fare tutte le maglie così come si presentano arrivati vedete sugli archetti semplicemente lavoriamo due maglie nel primo archetto due maglie sulle maglie centrali sottostanti quindi una per ogni maglia e due maglie sugli archetti che seguono dopodiché continuiamo a lavorare le maglie così come si presentano fino al termine del giro concludiamo sempre il giro mi raccomando non sulle due catenelle ma sull'ultima maglia alta che ci si presenta le due catenelle dovremo assolutamente ignorarle questo è quello che avremo al termine del giro ora nel nostro giro seguente dobbiamo andare a ricreare questi due forellini niente di più semplice perché andiamo semplicemente a fermarci su queste due maglie quindi facciamo riferimento al due giri sotto faremo le catenelle dove abbiamo ricreato le maglie e le maglie centrali di nuovo le catenelle dove abbiamo ricreato le maglie e poi continueremo a lavorare quindi due catenelle voltiamo il lavoro maglia alta nella stessa maglia alta alla base delle due catenelle ed andiamo a lavorare le nostre 40 maglie alte fino ad arrivare a quello che sarà il nostro nuovo archetto eccoci giunti come vedete si riconoscono molto facilmente le due maglie che abbiamo ricostruito perché sono nell'archetto quindi cosa facciamo invece di fare maglie su maglie facciamo due catenelle saltiamo proprio queste due maglie andiamo a lavorare quelle centrali una e due altre due catenelle saltiamo le due maglie ricostruite sull'archetto due giri sotto e sulla terza maglia che sarà la prima delle 40 maglie dall'altro lato andiamo a ricostruire tutta la riga in questo modo i giri che dovremo fare in questo caso sono sempre gli stessi dovremo alternare un giro pieno ad un giro con gli archetti sarà veramente così per i miei adesso vi ripeto subito quanti giri ho fatto 28 giri una volta fatti i giri necessari saremo arrivati qua vedete abbiamo la stessa medesima elaborazione quindi abbiamo questi fori centrali ed abbiamo questi qui ecco qua come vedete sono uguali io semplicemente nel campione ho fatto una maglia in più perché mi sono resa conto che questi forellini del progetto principale erano un po' troppo grandi quindi un po' troppo piccoli e ho paura che poi tirino e quindi qui ho semplicemente fatto le due ho fatto la correzione come giusto che sia perché voi vi troviate più comodi nella lavorazione della vostra scusate maglia quindi io in realtà nel progetto originale avevo fatto una sola catenella saltando una sola maglia e nel campione ho fatto due catenelle saltando due maglie cosa che vi consiglio vivamente perché questi fori sono un po' piccoli ho paura che quando andrò a fare la lavorazione che devo fare tiri un attimino la maglia quindi è l'unica differenza ho semplicemente corretto un errore fatto in partenza arrivati a questo punto quindi il vostro ultimo giro prima dello scollo dovrà essere quello con i fori staccheremo il nostro filo e lo nasconderemo poi successivamente o se volete farlo adesso per non voler accumulare poi lavoro alla fine potrete tranquillamente nasconderlo in qualsiasi momento partiamo con la V quindi partiamo da sul lato sinistro perché partiremo sempre dal centro verso l'esterno quindi io sono già sul dritto l'altro lato lo faremo dal rovescio perché questa cosa perché avremo la stessa medesima lavorazione se noi partiamo da questo lato e andiamo all'interno poi non coincideranno bene le maglie quindi partiremo sempre dal lato centrale verso l'esterno quindi sia per un lato che per l'altro la lavorazione sarà la stessa quindi prendiamo il nostro filo facciamo il cappietto da mettere sull'uncinetto ecco qui e partiamo su una delle due maglie centrali quindi in quella alla nostra sinistra lì una delle due maglie centrali scusate quindi parto con maglia bassa catenella che sarà la nostra prima maglia alta dopodiché carico il filo vado a fare due maglie all'interno del foro una e due in questo modo e iniziamo la prima diminuzione quindi filo sull'uncinetto entro nella prima maglia vedete la prima dopo il foro carico il filo la chiudo a metà filo sull'uncinetto entro nella prossima carico il filo chiudo a metà chiudo tutto insieme e ho fatto la prima delle due diminuzioni filo sull'uncinetto entro nella prossima maglia pesco il filo chiudo a metà filo sull'uncinetto entro nella prossima maglia pesco il filo chiudo a metà chiudo tutto insieme finisco il giro semplicemente a maglia alta maglia su maglia in questo modo ora il mio campione è piccolo possiamo tranquillamente farlo insieme ecco qua lavoro sulle ultime sull'ultima maglia anzi no l'ultima maglia è questa non andate a saltarne perché già abbiamo due diminuzioni per giro e di conseguenza vedete che come tira la maglia già sta tirando per creare la V prossimo giro è semplicissimo allora due catenelle voltiamo il nostro lavoro filo sull'uncinetto la prima maglia lavoriamo sulla prima maglia sottostante quindi alla base delle due catenelle come fatto finora e ci portiamo verso il centro della maglia dobbiamo lavorare fino ad avere sette maglie finali vedete io mi sono fermata perché ho queste due maglie che sono quelle prima della seconda diminuzione sottostante poi ci sono c'è la maglia l'altra diminuzione lo vedete perché sono due maglie lavorate insieme vedete le catenelle risultano leggermente più grandi quindi se non volete contare le sette maglie o mettere un marca punti semplicemente vi fermate la lavorazione a due maglie quando mancano due maglie ad arrivare alla diminuzione quindi io ho una due maglie poi ho diminuzione diminuzione e le restanti maglie e qua mi fermo e cosa faccio pesco il filo e faccio la diminuzione quindi entro nella maglia pesco chiudo a metà filo sull'uncinetto entro nella maglia pesco chiudo a metà chiudo tutto insieme la prossima diminuzione viene fatta proprio prendendo le due diminuzioni sottostanti quindi filo sull'uncinetto entro in una delle due diminuzioni pesco chiudo a metà filo sull'uncinetto entro pesco chiudo a metà chiudo tutto insieme attenzione perché in questo giro dobbiamo ricreare il forellino lo faremo più piccolo lo faremo solo da una maglia quindi lavoriamo una maglia ce ne rimangono erano tre le maglie dopo le diminuzioni quindi lavoriamo una maglia facciamo una catenella filo sull'uncinetto andiamo a lavorare sull'ultima maglia sottostante in questo modo abbiamo fatto la diminuzione abbiamo rifatto ricreato il forellino quindi due catenelle voltiamo il nostro lavoro facciamo una maglia alta esattamente sulla maglia sottostante quindi alla base delle due catenelle e facciamo una maglia all'interno di quel forellino quindi entro nell'archetto sottostante ricostruisco la maglia dopodiché faccio una maglia alta aggiuntiva ecco qua quindi lavoro una terza maglia e vado a fare di nuovo la diminuzione qui entro nel foro scusate entro sulla maglia sottostante pesco esco solo da due entro nella prossima pesco esco solo da due chiudo tutto insieme vedete che la v sta iniziando a venire perfettamente ho fatto la prima però vi ragioni adesso la faccio ma faccio la seconda diminuzione ma il campione è talmente piccolo che non avrei più spazio per fare una seconda diminuzione vedete ecco qua faccio la seconda diminuzione nello stesso modo dopodiché vado avanti a lavorare fino alla fine del giro in questo caso io sono giunta perché il mio campioncino è piccolo ma adesso vi faccio vedere sull'originale eccolo qua vedete c'è la V poi sale il pezzettino dopo faremo le rifiniture l'altro pannello sarà semplicemente un pannello di vi dico di nuovo 86 maglie il primo giro di maglia bassa i seguenti tutti a maglia alta senza fare nessunissima lavorazione quindi il secondo pannello ve lo mostro è un pannello semplicissimo liscio vedete non ha neanche i fori centrali semplicemente ho lavorato le mie 86 maglie sempre vedete come viene omogeneo il bordo facendo sempre le due catenelle e la maglia sulla stessa maglia sottostante non vengono quei bruttissimi antestetici buchini laterali quindi fatti i nostri due pannelli adesso ahimè è scuro ma siccome sono rifiniture semplicissime le facciamo direttamente su il nostro lavoro originale a questo punto potete usare qualsiasi filato io ho deciso di usare questo pelliccioso è il mink di yarnart vi lascerò il link in descrizione vorrei usare questo volevo decidere il colore ho preso anche questo perché vedete se volete ci sta benissimo anche il il viola questo bellissimo viola ma userò questo in realtà potrete usare qualsiasi filato anche un filato non pelliccioso ovviamente cambierà l'effetto ed ora andremo ad usarlo insieme in questo modo quindi facciamo in questo modo prendiamo il metro prendiamo il filo e lo tiriamo fino a 110 cm sono arrivata metto via il metro e inizio a doppiare e poi triplicare in questo modo quadruplicare ecco perché vi ho fatto fare i fori più grandi altrimenti i miei tireranno un pochino quindi abbiamo quadruplicato vado a fare ancora qualche giro ecco i giri dipenderanno anche dallo spessore del filato che andate ad utilizzare quindi io vado a utilizzare un filato abbastanza già grossino perché è pelliccioso non necessito di fare tantissimi giri voi ovviamente potreste doverne fare di più in quanto se avete un filato avete scelto un filato più sottile vi necessiterà ecco più giri più ecco prese in questo modo state bene attenti che stiano tutti uniti non come ho fatto io in questo momento andiamo a dividere a metà i nostri giri e lo apriamo per una lunghezza maggiore quindi lo srotoliamo in realtà adesso che l'abbiamo quadruplicato e facciamo in modo che quindi pieghiamo a metà il nostro filato prendiamo capo con capo andiamo a cercare il capo ecco in questo modo se l'abbiamo quadruplicato altrimenti per esempio se l'abbiamo piegato in otto parti faremo non capo con capo ma due capi e due capi quindi in questo modo adesso capirete man mano che vado avanti perché spiegato è più difficile che farvelo vedere quindi in realtà andate di nuovo a piegarli mettete la mano in mezzo in mezzo e cosa fate li rimettete vicini in questo modo quindi vedete abbiamo diviso le nostre sezioni perché perché adesso io vado a prendermi la metà in questo modo quindi la metà vado a dividere a metà i miei capi e cosa faccio una parte quindi adesso me la segno magari con un nodino la metà uno perché tengo fermi i fili e due perché ho la metà esatta segnato dal nodino ora vado ad inserirla nella mia lavorazione quindi entrerò in questo modo anzi la infiliamo qui sopra in una maglia nella prima maglia quindi anche se non c'è nessun foro la infiliamo nella prima maglia qui e vado a mettere il mio filato in questo modo lo portiamo a metà e facciamo un nodino ulteriore perché dobbiamo fermare il nostro filo in questo modo ecco qua ora possiamo iniziare la nostra lavorazione la nostra lavorazione inizierà così quindi porterò il filo all'interno del primo foro se vi è comodo e avete un tira fettuccia in silicone potete anche infilare il filo nel tira fettuccia in silicone io semplicemente prenderò il mio filo lo spingerò all'interno della lavorazione in questo modo e lo farò uscire fate con delicatezza altrimenti vi si vi si rovinano la lavorazione porto il mio filo davanti di nuovo all'interno del foro faccio entrare i miei fili di lavorazione una volta portati dentro facciamo in modo che sia bello morbido di nuovo all'interno e faccio scendere i miei fili in questo modo vedete proseguiamo in questo modo quindi non vi faccio vedere tutti i passaggi perché si fanno sempre nello stesso modo ma poi arriveremo alla V quindi faremo la stessa cosa dall'altro lato e porteremo i fili verso la nostra V quindi questa maglia in realtà non necessiterà di grosse rifiniture ed è per quello che vi ho fatto già fare un giro con la rifinitura con doppia maglia all'inizio perché così non avrete necessità delle rifiniture ecco state così belle morbide vedete poi tirate fuori il filo bello morbido e proseguiamo in questo modo fino ad arrivare alla V dopodiché facciamo la stessa cosa dall'altro lato una volta fatto questo su entrambe le parti vedete è solo una rifinitura non ha niente di eccezionale non dobbiamo fare altro che vedete io in questo caso ho finito in questo modo e ho portato i fili sopra se voi non finite nello stesso modo e uscite fateli fare un giro per poterli portare al di sopra ora cosa faremo andremo semplicemente ad infilare i fili in questo modo quindi li andremo ad incrociare allora avevo deciso di farvi vedere anche le cuciture poi ho pensato che non volevo che questo video diventasse infinito e le cuciture in realtà ve le spiego a parole perché sono semplicissime sono quelle che io uso solitamente in tutti i tutorial quando cucio ad ago cioè mettiamo dritto contro dritto uniamo il davanti e il dietro e come potete vedere cuciamo ad ago semplicemente prendendo sempre allora sulle spalle soltanto mezza asolina quella interna quindi mezza catenella e cuciamo la nostra spalla lateralmente ci sono due diversi metodi o fate prima uno scontorno di maglia bassa e quindi cucite nello stesso modo oppure come ho fatto io vi faccio vedere ho cucito guardate la cucitura è piattissima e non si vede neanche ho cucito prendendo le asoline laterali che si formano sulle catenelle allora questa ve la faccio vedere perché rimane forse più complicata da comprendere quindi in pratica mettete dritto contro dritto e con il vostro ago andate a prendere si formano comunque delle catenelle andate a prendere le catenelline che si formano e quindi passando tra i fili ed entrando prima da un lato e poi dall'altro unite prendete sempre solo un filo quindi un filo da un lato solo uno mi raccomando e un filo dall'altro solo uno in modo che la vostra cucitura risulti totalmente invisibile e molto molto pulita quindi la maglia è finita io non rifinisco proprio con nulla nel senso non farò neanche il giro di maglia bassa attorno alla manica perché lavorando come abbiamo visto facendo le due catenelle e la maglia alta sulla stessa maglia guardate come rimane già pulita la lavorazione quindi non è neanche necessario rifinirlo se voi vorrete rifinirlo potrete farlo tranquillamente con un giro di maglia bassa mentre sul collo è già rifinito così com'è e non è necessario e sotto eravamo partiti già con un giro di maglia bassa quindi non è necessario neanche sotto non la toglie che se voi volete rifinire in altro modo potrete potrete farlo tranquillamente quindi il nostro gilet macchie è terminato per chi volesse farlo diventare una maglia anche lì basta attaccarsi in circolare alla lavorazione attorno al giro manica e procedere in quel caso potrete attuare anche delle diminuzioni per stringere la manica perché comunque togliendo una due maglie per ogni giro andate ad affusolare la vostra manica spero che anche questo tutorial vi sia piaciuto l'ho ridotto ai minimi termini per evitare che diventi troppo lungo non vi nascondo che farò dei video dedicati alle rifiniture su tutti i miei progetti quindi farò un video sicuramente dove vi farò vedere come si cuce un video dove vi farò vedere insomma tutte quelle piccole cose che rendono un video lunghissimo e se ne avete necessità io poi in descrizione di volta in volta vi lascerò i video vari ed eventuali quindi vorrei cercare di restringere il più possibile i miei video per non tediarvi e non tenervi incollati allo schermo del cellulare computer e tablet in un tempo che diventa infinito quindi piano piano risolveremo tutti questi problemi io per ora vi saluto vi invito a venirmi a trovare nel gruppo facebook creando con Lucy il salotto io sono anche su instagram se volete contattarmi per tutte le domande inerenti ai video vi consiglio di lasciare i commenti e le vostre domande sotto al video stesso mentre se volete farmi vedere i vostri lavori mi trovate su messenger mi trovate su instagram e mi trovate ovviamente nel gruppo facebook un bacio da Lucy a presto al prossimo video tutorial ciao ciao